Acquisti online a rischio sotto Natale. In Germania lo sciopero indetto dai dipendenti del colosso americano dell'e-commerce, Amazon, sta interessando due dei maggiori punti vendita del paese, Bad Ersfeld e Lipsia. Qui i lavoratori chiedono di essere considerati dipendenti di concetto e non manodopera logistica. Vogliamo che sia chiaro cosa chiediamo e perché siamo qui, spiega questa sindacalista. Decideremo presto se lo sciopero andrà avanti. Ci potrebbero essere dei ritardi di consegna, ma i regali arriveranno. La polemica, che da fine novembre ha visto diverse interruzioni del lavoro senza preavviso, riguarda solo in apparenza questioni salariali. In gioco ci sono invece problemi di sicurezza e condizioni del luogo di lavoro dei dipendenti, il cui compito è di organizzare gli ordini dei clienti e di spostare pacchi spesso piuttosto pesanti. Il sindacato Ferdi, che rappresenta circa 2.000 lavoratori all'Ipsia e 3.300 a Bad Ersfeld, con questa richiesta intende sottolineare come i dipendenti non vogliano essere utilizzati in modo troppo flessibile, ma piuttosto siano rispettati e riconosciuti in ruoli specifici. Le consegne natalizie sembrano comunque assicurate.